vabbè ripeti ripeti perché altrimenti qui sono 25 anni qui per il ragazzo siamo all'art club di Desenzano del Garda guardate le palme poi in questo locale io me lo farò tutto è chiaro? e non è male il cazzo del cibo è il cazzo di uno se c'è anche un passaggio è mio? grazie aspetta aspetta che mi metto qua che ci riprendiamo un po' io e Corrado chiaro ma che mi sposta? si sposta qua siamo a quel culo lì vuoi vedere quel culissimo la? siamo all'arte a Desenzano la figa la si può vedere a occhio nudo ne abbiamo anche abbattuto due o tre esemplari e Giovanni ha fatto vedere le palle a quattro fighe e non solo e il Verza ci ha provato invece che con le fighe con Corrado taglia, taglia, taglia no, non tagliare un cazzo è una macchina sulla schiena non lo so hai già guardato la storia del parolo eh? del parolo eh, sì, sì che macchina è rotto perfetto una nuova storia da raccontare Corrado non ce la faccio veramente più ma adesso potrei farcela però che bella figa che bella figa ferro dai oh, Alex, ma il felpino no, firma lui firma lui ma te non ti buttaresti col caffè? ce l'hanno rubato ci sono rubato il felpino non è una bozza per l'ultimo colpo di cosa l'ultimo colpo di cosa l'ultimo colpo di cosa l'ultimo colpo di cosa Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.